Si chiama Caffè Alzheimer, il progetto regionale presentato dalle ACLI di Benevento, promosso in collaborazione con il comune del capologo Sannita, con l'obiettivo di contrastare le solitudini involontarie, i fenomeni di marginalità e di esclusione sociale, specie nella popolazione anziana, spesso affetta da Alzheimer. Stiamo cercando dal mese di giugno di fare delle attività, non solo con le famiglie, ma anche con i destinatari. che ahimè sono anziani, ma il problema più grande è che non dobbiamo fare un lavoro di cura, ma dobbiamo fare un lavoro di prevenzione, perché in Campania, ma specialmente nella provincia di Benevento, c'è un allarme sociale e su questo ovviamente vorremmo sempre di più collaborare con le istituzioni, perché qui c'è un lavoro di rete che si deve fare. Nel Sannio sono 4.750 gli anziani con demenza senile, di questi circa il 50% sono affetti dall'Alzheimer. Numeri destinati ad aumentare sensibilmente in futuro. Servono strutture e fondi con urgenza, il monito del numero 1 regionale delle ACLI. Il problema della sanità è un problema su cui le regioni devono metterci mano, perché non è possibile che il bilancio è dato dall'80-90% che stanziano tutte quelle risorse. Qui dobbiamo parlare di case di comunità, case di prossimità che ci aiutano a fare un lavoro importante.